trovare la tua strada non è facile soprattutto quando sei giovane quando ti dicono che devi studiare trovare la tua strada trovare la tua carriera eccetera anche perché le cose sono cambiate non sono più come quando io ero ragazzo per cui diciamo era proprio il default pensare che uno dovesse scegliere una strada una professione studiare per quella e poi farla oggi è cambiato completamente tutto quanto ho fatto il liceo classico dopodiché ero molto esuberante interessato a molte altre cose prima fra tutte la musica e la radio perché a quel tempo proprio a quel tempo nascevano le radio libere quindi io tutto il tempo che non dedicavo alla scoperta dell'altro sesso o a stare con i miei amici lo dedicavo interamente alla radio e alla musica ora però dovevo comunque confrontarmi con genitori la famiglia insomma i miei doveri ufficiali quindi ero iscritto all'università di roma ma non è che mi potesse accontentare ma di studiare una cosa come tutti gli altri no non poteva andare bene perché io mi sentivo speciale che dovevo fare qualcosa di unico che non poteva essere né essere medico né essere avvocato nessuna di queste cose né architetto ingegnere proprio assolutamente cercavo qualcosa di veramente un po più in sintonia con le cose che mi dicevano però non è che si potesse studiare radio video musica all'università quindi spensa e ripensa analizza e rianalizza cos'è che se vabbè andiamo un gradino sotto a queste cose cos'è che mi piace e al tempo andavano fortissimo per tanti anni quando io ero diciamo piccolino andavano fortissimo questi documentari con jacquisto l'esploratore dei mari che andava con i sottomarini con le con le sue navi a fare esplorazione a conoscere posti sconosciuti a farci vedere pesci animali stranissimi incontri con i delfini di tutto e di più insomma giacquisto è una specie di superman però reale nella vita di tutti i giorni un po scienziato esploratore avventuroso quindi ho detto mazza se dovessi pensare a qualcos'altro questo mi piacerebbe fare quello che fa giacquisto e ho detto come si fa a fare questa cosa non c'era un dipartimento una facoltà per diventare oceanografi c'era un percorso per il quale se uno studiava una serie di cose qua in italia si laureava diciamo scienze naturali poi sarebbe potuto andare magari in america a studiare oceanografia quindi ho fatto subito un mash up ho detto va bene prendiamo scienze naturali facciamo un po di botanica citologia istologia un po di vulcanologia ho dato questi due tre quattro esami così fino a che un bel giorno un amico di amici ha detto guarda perché non viene anche tu io vado in america vado a studiare l'inglese poi faccio università la una figata su giù la ha detto una due tre quattro cinque volte poi dopo ci ho cominciato a pensare ripensare eccetera ne ho parlato a casa alla fine sono partito con questo mio amico alla volta della california siamo andati a san francisco nella bay area a oakland al collegio dell'holy names a studiare l'inglese durante l'estate per vedere come era questa esperienza per rendermi conto se potevo farlo non potevo farla quanto costava e vedere soprattutto se sarei potuto diventare già custo perché poi lì in california a san diego c'era lo scrips institution of oceanography e quindi ho detto studiamo l'inglese andiamo a fa un giro a san diego e vediamo un po come la situazione studiato l'inglese sono andato a san diego a visitare questa università questo campus mi hanno dato tutte informazioni eccetera non era niente che io potessi fare in quel momento ma c'era la possibilità se io volevo di andare a fare una summer session un corso estivo a bodega bay a nord di san francisco c'era un corso estivo di marine biology insomma era quella roba di giac custo quindi ho detto qua se non costa uno sproposito ci facciamo finanziare andiamo a fare questo bel corso e vediamo da vicino così ci divertiamo cominciamo a cavalcare l'onda poi da cosa nasce cosa e così mi sono iscritto a questo corso di marine biology e sono andato bello bello con la mia macchinetta a bodega bay dove in un posto spettacolare bellissimo era tutto attrezzato per ospitare un gruppo di studenti che sarebbe stato lì tre quattro settimane non mi credo quanto tempo sono stato però quello che mi ricordo bene quello che ci hanno fatto fare ci hanno perché io proprio non sapevo che cosa aspettarmi ma chissà che faremo andremo con la barca pescheremo guarderemo delle cose al microscopio e lì l'ho scoperto ho scoperto che se io avessi deciso di procedere con il mio sogno di diventare un nuovo giac custo avrei dovuto studiare altri sei anni montagne di libri di corsi eccetera e andare così come mi hanno fatto fare lì con gli stivaletti dentro l'acqua a raccogliere decine 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 di conchigliette a guardarle una per una e poi riportarle indietro e vedere queste conchigliette di che categoria facevano parte eccetera guarda devo dire adesso io sono anche un po appassionato anzi lo sono sempre stato appassionato un po di classificare le cose eccetera però sul momento questo aspetto assolutamente non è emerso è emerso che sarei dovuto stare degli anni a fare delle cose tediose noiose che non mi appassionavano che non erano eccitanti che non erano cose di azione di esplorazione ma di grande studio sui libri e di piccole cose nel mondo reale per cui ho detto a belli ma stiamo scherzando cioè televisione tutto bellissimo però io adesso mettermi a studiare sei anni per poi poter forse partecipare al master e andare a fare queste cose che già non mi entusiasmano no grazie no grazie torno indietro a san francisco torno in san francisco apro un po gli occhi guardo a sinistra a destra guardo su e giù dico ma scusate ma qua siamo in california siamo in america ma non è che ci sarebbe un posto dove si può studiare non dico disc jockey ma radio televisione film ecco io mi hanno detto come scherzi a santa barbara c'è un dipartimento media super qui qua qua bene allora sono partito sono andato a santa barbara mi sono iscritto ho cominciato a fare dei corsi sono stato un po lì poi dopo mi sono reso conto che però non c'avevano la ciccia era tutto un po social media ma social media non esistono ancora non c'è internet quindi l'aspetto sociale i media l'analisi la critica belli io voglio spinge parla manda i dischi fa il montaggio cose concrete e quindi lì a santa barbara quelli mi fanno ah ma scusa tu vieni da san francisco guarda che a san francisco c'è a san francisco state university che c'è un dipartimento radio televisione e film proprio dei più forti in america o dico ma me lo potevate di prima stavo a oakland sono venuto a santa barbara prima andato a san diego insomma per dirti quanti giri uno fa perché poi io sono sbarcato a questa san francisco state university che mi sono sposato mi sono innamorato di questa università sono entrato a far parte della squadra agonistica insomma proprio ci abbiamo avuto una storia intensa adesso se me la immagino qua il campus con la vela è bellissimo lì proprio quando sono arrivato lì io hanno inaugurato un nuovo dipartimento che si chiamava ceia era scritto center for experimental and interdisciplinary arts che voleva dire in italiano centro per le arti sperimentali e interdisciplinari un po come a dire come ti faccio a dire multimedia che ancora non ci sta questa parola perché questo era era un dipartimento che ti consentiva di miscelare insieme tutto quello che faceva parte delle creative arts diciamo dal teatro alla musica al film radio televisione tutte queste cose tu le potevi comporre insieme fare un mix e creare diciamo un tuo programma di laurea che dovevi sottoporre far approvare e poi potevi procedere per conseguirlo e io questo fatto è dopo meno di quattro anni dopo tre anni e qualcosa forse ancora meno studiando anche l'estate ho preso una laurea con il massimo dei voti dall'università di san francisco state proprio con questo indirizzo interdisciplinare e con un focus particolare su che cosa su audio video e film quindi se il tuo percorso ti fa girare non è un problema l'importante che tu ti domandi quello che sto facendo mi sta portando ad imparare cose che mi interessano sto facendo delle esperienze che mi sono utili o sta solo riempiendo il mio tempo e e dandomi uno stipendio